Buon viaggio dalla redazione di Flores Multimedia, Mauro Ciutini in studio. Sulla Firenze, Pisa, Livorno, segnalata una perdita di carico, siamo tra Empoli ed Empoli Est in direzione di Firenze. Sulla A11, Animali, sulla strada tra Pistoia e Prato Ovest. Passiamo in A1, rallentamenti dopo un veicolo in avaria o mezzo pesante, tra Valdarno e Arezzo in direzione di Roma. Passiamo all'Aurelia, la Statale 1 è chiusa a una corsia per lavori tra Rio Torto e Venturina in direzione di Ponte San Luigi. Per quanto riguarda i voli, quello da Parigi atteso a Firenze alle 11.25 è stato cancellato, così come la sua ripartenza delle 12.10. È tutto per il momento, muoversi in Toscana con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon sabato, a Chitardi. Buon sabato, a Chitardi.